Commercio avviato, vita sicura, polizia che ti protegge, giustizia nei tribunali. A che te serviva un amico come me? Ma ora vieni da me e mi dici, Don Corleone fammi giustizia. Però non lo domandi con rispetto. Tu non offri amicizia. Non ti sogni nemmeno di chiamarmi padrino. Invece ti presenti a casa mia il giorno di che si marita mia figlia e mi vieni a chiedere un omicidio a pagamento. Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana. Nel video di oggi parliamo della parola rispetto e del verbo rispettare. È una parola molto usata in lingua italiana, non solo per il suo significato. Ad esempio posso dire il rispetto delle regole o il rispetto per i propri genitori. Ma è anche una parola molto usata quando vogliamo confrontare due cose o due periodi, due aggettivi, due persone. Ad esempio potrei dire rispetto all'anno scorso, quest'anno fa molto più freddo. Prima di iniziare vi ricordo che io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi aiuto a migliorare in lingua italiana parlandovi di diversi argomenti tra cui cultura, arte, vocaboli, modi di dire e tanto altro. Per non perdere i prossimi video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Iniziamo! Come dicevo quindi, in lingua italiana possiamo avere sia il sostantivo rispetto ma anche il verbo rispettare. Sono estremamente simili e si usano in maniera molto simile. Adesso vedremo alcuni esempi per capire meglio come usare queste parole. Quando parlo di rispetto parlo di un sentimento di stima, di attenzione verso una persona o una cosa. Ad esempio io posso dire che ho rispetto per la tua opinione, significa che sono sensibile alla tua opinione, la tua opinione mi interessa. Quindi io posso avere rispetto per la tua opinione oppure posso rispettare la tua opinione. Quindi io posso dire rispetto la tua opinione, ovvero uso il verbo rispetto la tua opinione, oppure posso dire ho rispetto per la tua opinione. Quindi ho un sentimento di attenzione verso la tua opinione. Quindi ho rispetto verso la tua opinione. Solitamente la parola rispetto e il verbo rispettare vengono usati insieme a parole che riguardano la sfera giuridica, quindi che riguardano gli argomenti giuridici. Ad esempio si può rispettare il regolamento, si può rispettare la legge e quindi sentirete spesso frasi in cui qualcuno rispetta la legge e qualcun altro non rispetta la legge. Chi non rispetta la legge solitamente viene punito o comunque va incontro a delle sanzioni. Forse entrando in una chiesa o in un luogo religioso potreste trovare un cartello con scritto rispettate il silenzio. Significa abbiate rispetto per chi sta in silenzio e quindi state anche voi in silenzio. Quindi ci sono alcuni luoghi in cui si rispetta il silenzio o dovrete rispettare il silenzio. In lingua italiana la parola rispetto è riuscita a trovare anche un'altra funzione, un altro uso, ovvero quando vogliamo confrontare o paragonare due cose possiamo usare questa parola. Ad esempio io posso dire che sono più alto rispetto a Marco, significa che io sono più alto di Marco o sono più alto se confrontato a Marco, ma posso anche dire le mele costano meno rispetto alle arance, significa che le mele costano meno se confrontate alle arance. Vediamo alcuni esempi. Lui ha iniziato a studiare molto prima rispetto a te. Rispetto a quello che dobbiamo fare, il tempo a disposizione è poco. Rispetto a loro, noi non abbiamo mai avuto problemi con la polizia. Esistono alcune frasi in cui la parola rispetto mantiene il suo significato originale, ma è associata ad altre parole. Ad esempio portare rispetto significa rispettare qualcuno o avere rispetto per qualcuno o per qualcosa, mentre mancare di rispetto oppure avere una mancanza di rispetto significa non avere rispetto per qualcuno. Ad esempio io potrei entrare nel ristorante e dire voglio subito un posto, non mi importa della fila. Il cameriere potrebbe dirmi questa è una mancanza di rispetto, probabilmente non succede perché i camerieri sono molto educati solitamente. Esistono anche altre espressioni in lingua italiana come di tutto rispetto e con rispetto parlando e come sempre in descrizione trovate i link per continuare a studiare queste espressioni, ma anche per continuare a studiare la lingua italiana. Come sempre se il video vi è piaciuto fatemelo sapere, scrivetemi un commento e provate a usare la parola rispetto o il verbo rispettare. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video e ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon, Ko-Fi e TP, grazie infinite. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi mando un bacio. Ciao!